buongiorno oggi questa mattina abbiamo la fortuna di avere con noi carlo maria bajetta professore ordinario di letteratura inglese alla università della val d'aosta esperto di letteratura rinascimentale inglese con quale per oggi parliamo di un libro appena pubblicato cioè l'immagine scartata di luis pubblicato da direzioni studium con una bella premessa di danilo zardin questo libro è già uscito qualche anno fa in italiano adesso è un saline ripresentato in una traduzione rivista e corretta e quindi abbiamo la possibilità di riavvicinare questo test lui sono autore che io amo molto anche se devo dire rispetto al suo ovvio come si può dire antagonista in qualche modo tolkien mentre tolkien secondo me è l'uomo di un solo grande libro e tutti gli altri sono dei satelliti invece lui se l'uomo di tanti libri di una pluralità di libri in cui non ce n'è uno che sintetizzi tutto il suo pensiero ma ma sono sono una grande varietà carlo cosa dici ho ragione otto assolutamente sì oserei mai darti torto no la questione no e sono molto d'accordo tra parentesi è molto interessante quello che stai dicendo perché proprio per l'ossessione di tolkien per il suo grande libro i due ebbero a come dire a litigare sostanzialmente nel periodo proprio in cui lui si stava scrivendo questo libro perdono tolkien stava scrivendo questo libro e stava leggendolo agli amici agli inklings questo gruppo di persone che stava attorno al via oxford è interessante che il rapporto fra lewis e tolkien è sempre stato un rapporto molto fertile no il primo approccio di di tolkien a lewis fu un approccio che lewis ricorda in questo modo ma non è male quello lì meriterebbe solo un paio di sberle no e dicevano al mio primo arrivo dice lo dice surprise by joy nella sua altubiografia sorpreso dalla gioia dice al mio primo arrivo a oxford mi avevano detto di non fidarmi mai di un cattolico e esplicitamente mi avevano detto implicitamente esplicitamente mi avevano detto di non fidarmi mai di un filologo tolkien era entrambi no quindi il rapporto fra i due era già nato un pochettino così l'insistenza sul grande libro di tolkien fa sì che i due facciano un po fatica a un certo momento soprattutto quando lewis inizia a scrivere le cronache di narnia perché nelle cronache di narnia lewis rinuncia tutta quella perfezione del signore degli anelli abbiamo questa meteorologia perfetta no c'è sono tutte le storie quando tolkien chiedevano ma perché hai messo questo perché nell'epoca dei nani era successo questo pochino ha in mente tutta una serie di eventi tutta la storia di tolkien in quel modo anche una cosmogonia assolutamente e sappiamo che tolkien scrive questo libro lo dice nell'edizione e 68 il signore degli anelli dice io ho scritto questo libro perché l'avrei scritto un altro che nessuno avrebbe mai letto perché lui voleva costruire si era costruito le varie lingue dei dei nani delle cose eccetera eccetera in cui si marino in qualche modo si marino era quel libro esatto che nessuno poi avrebbe letto abbiamo già nominato tante cose che lui si possa distinguere così gli scritti già così del moralista teologo tra virgolette quello del memorialista che racconta la sua vita che tu hai citato da questo anche tratto un noto film il grande conferenziere perché era un uomo pubblico tu hai tradotto anche alcune conferenze bellissime sul tema della lettura c'è una conferenza che per tutti coloro che sono perché vorranno ascoltare queste in realtà c'è il vigino di questo libro c'è la conferenza che aveva tenuto a un pubblico non specialistico che appunto racconta praticamente un po sintetizzando estremamente alcuni dei temi di questo di questo saggio è citato comunque e nella nel libro nell'introduzione al libro questo saggio si chiama immaginazione pensiero nel medioevo riprende questo e ti interrompo in questo senso perché appunto proprio l'enfasi sul medioevo ci fa pensare della prima edizione di questo libro adesso giustamente è stato ristampato questo libro adesso stai parlando di dell'immagine scartata esatto esatto le prime edizioni questo libro si dice diceva che aveva sottotitolo l'immaginario medievale insomma adesso vi ricordo in questo caso giustamente è stato riproposto il titolo originale c'è un'introduzione a letteratura medievale e rinascimentale questa questo è un punto importante perché quel saggio di cui stavo parlando prima sembra un po parlare del solo del medioevo qui il discorso è più ampio ed è più ampio e per certi aspetti riprende come dicevi tu un po tutta l'attività di di Lewis come come docente prima a Oxford e poi a Cambridge sapete che naturalmente Lewis era facciamo un minimo di aneddotica che è anche carino Lewis era prima a Oxford dove viveva e a quei tempi c'era ancora un meraviglioso trenino che faceva Oxford Cambridge di cui saremmo molto felici noi ancora che ci muoviamo fra entrambi le città spesso adesso bisogna passare per Londra Lewis viveva a Oxford insegnava a Oxford e aveva fatto queste lezioni ancora dagli anni fino anni venti inizio anni trenta e questo libro raccoglie in realtà tutte queste lezioni che ha fatto prima a Oxford e poi a Cambridge dove diventa il primo professore di letteratura medievale e rinascimentale e questa è una cosa importante cioè in fondo quello oggi chiameremmo Lewis più che altro un comparatista no non uno studioso di letteratura inglese infatti questo libro è un libro che prende da tantissimi autori dicevamo riprende molto come dire un po tutta l'attività di Lewis perché diciamo tranne un po' il suo passione giovanile per la poesia perché forse alcuni non sanno ma scrive ben quattro volumi di quattro la sua poesia riempie quattro quattro volumi ne pubblica due quando sono quando è ancora giovane e e poi come dire riprende riprende molto anche un po' tutto quello che è il pensiero sottostante a diversi suoi saggi dall'allegoria dell'amore in avanti ma anche fa vedere il modello che c'è sotto sui suoi romanzi le cronache di Narnia si capiscono bene quando si si legge l'immagine scartata perché gioca e scherza anche Lewis su questo mondo ad esempio nel Prince Caspian mi ricordo così a naso il principe Caspian dice a uno dei suoi amici che sono sulla barca con lui dice ah ma mi state dicendo che voi arrivate da un mondo che è rotondo deve essere divertentissimo vivere su una cosa che è rotonda come una palla e su queste cose appunto poi Lewis gioca in tanti punti e come dice come al vezzo del classico professore che ogni tanto ci butta dentro qualche cosa persino nei romanzi per bambini sono questi romanzi per bambini che hanno fatto latigare Lewis e Tolkien no perché appunto Tolkien dice ma non puoi continuare a fare questo gioco intervenire in prima persona fare riferimenti al mondo esteriore no invece per Lewis questo questo gioco questo gioco di richiamare sempre un po' alla totalità dei fattori come dire che fanno scaturire la letteratura è fondamentale e lo fa in tutte le sue azioni quindi è come se Lewis fosse più letterario da un certo punto di vista proprio perché sa giocare anche così in maniera meta letteraria ci testi perché poi opera narrativa di Lewis ha dentro appunto un'opera strana con le sue prosecuzioni come le lettere di Berlicche che in realtà sono a metà strada tra appunto lo scritto moralistico e lo scritto narrativo in inglese Walter Hooper le aveva chiamate queste cose le aveva chiamate theological fantasies fantasie diciamo teologici come come quell'altro adesso mi ricordo il titolo Grande Divorzio Grande Divorzio che secondo me è bellissimo comunque ma ascolta e poi c'è appunto poi c'è Narnia con tutto ciò che essa comprende e che vuol dire e poi c'è secondo me eccezionale la trilogia di fantascienza che secondo me è una delle opere più teologiche di Lewis perché è vero e anche sull'universo sulla natura dell'universo eccetera eccetera sì perché infatti anche appunto in Perelandera soprattutto si formano questi ecchi e questi giochi come dici tu se no sono molto d'accordo cioè questo è una è un punto è un punto interessante cioè è proprio questa immagine qua che Lewis riprende e ha un po' in mente quando scrive tra parentesi nell'immagine scartata Lewis dice guardate che vi sto proponendo degli autori magari alcuni li conoscete però di per sé stesso dovreste leggere almeno no almeno Virgilio adesso Virgilio Orazio e la Bibbia e Lewis diceva spesso ai suoi allievi e anche le sue conferenze il nostro come dire il problema che la letteratura fino a qualche anno fa era scritta per coloro che sapevano che avevano letto la Bibbia e i classici il nostro problema che non abbiamo più letto entrambi ok e questo è uno dei punti che Lewis ha caro e ripeto ha caro in tutta la sua produzione letteraria è come dire qualcosa che ritorna senti adesso concentriamoci un attimino su proprio su questo libro perché è utile presentarlo questo saggio nasce appunto come tu ci hai già accennato da una serie di conferenze che lui ha tenuto che poi sono state come collegate risistemate e ha al centro appunto l'immagine scartata che cos'è è la descrizione diciamo così del modello dell'immagine quindi del modello del mondo classico e medievale che è stata scartata che è stata scartata dalla modernità diciamo così è l'immagine del mondo il modello del mondo ecco che è stato superato da quella che noi chiamiamo la modernità e Lewis vuole descrivercelo perché dice solo questo permette di capire cioè usa come fonte la letteratura allo stesso tempo è il modo per poter capire la letteratura di quegli anni assolutamente sì infatti una cosa una cosa carina che dice nei primi capitoli dice attenzione vi sto proponendo un po' un modello come dire un po' una semplificazione no del di quello che è l'immagine che è sottesa a molta della letteratura medievale rinascimentale immagini soprattutto del cosmo teniamo presente che appunto lui ha una ci sono due cose dovremmo tenere considerazione per capire bene questo libro come è nato per certi aspetti e come vuole essere usato per arrivare dico una cosa sulla seconda subito cioè Lewis dice attenzione vi do ripeto un modello che è sotteso un pochettino di parla del grande modello può delle sue applicazioni quando spiega un po partendo da alcuni autori soprattutto classici eccetera che cosa ha in mente l'uomo del medioevo del rinascimento dice attenzione guardate che stiamo semplificando ma è anche un modello molto flessibile cioè soprattutto è un modello che nell'età elisabettiana tanto elisabettiana mettiamo quando c'è John Donne che gioca sul fatto che il suo letto diventa al centro del mondo e quindi il sole andando in giro non deve fare altro che scaldare due amanti sta giocando sul modello che è già in crisi in questo periodo no una famosa poesia di John Donne accusa al sole dice vai da un'altra parte del classico Obad con l'accusa al sole di derivazione classica e poi dice alla fine c'è al sole scusate al sole dice si scalda noi perché queste mura saranno la tua sfera e noi saremo dire il punto focale proprio del mondo come la terra era percepita come il punto focale. Questa concezione ha senz'altro come caratterizzata quella di essere geocentrica però non è solo quello. Però già in crisi in questo periodo esatto quello che l'ius dice in realtà attenzione per questi modelli sono già in crisi in questo periodo sono già flessibili e gli autori ci giocano no? Non è che dobbiamo cercare negli autori di scoprire come dire un'immagine che magari avevano coloro che si occupavano di astronomia. Ora recepiscono e giocano con queste immagini un po' come come preferiscono. Sì, addirittura nella sua introduzione che ha un bellissimo bellissimo testo Danilo Zardin cita un passaggio del cortegiano del 1528 che è estremamente interessante perché perché mostra come a quella data ancora in uno poi dei libri che diventerà uno dei libri modello già così della lettura del rinascimento italiano e si affermi chiaramente dice queste cose tra sé hanno tanta forza sta parlando degli elementi della natura della realtà queste cose tra sé hanno tanta forza per la connessione di un ordine composto così necessariamente che mutandole per un punto non poriano stare insieme e ruinerebbe il mondo hanno ancora tanta bellezza e grazia che non possono gli ingegni umani immaginare cosa più bella cioè sta mostrando cosa dicendo che il tutta la realtà è un sistema organico noi diremmo e che è pieno di bellezza e quella caratteristica è la bellezza cioè l'armonia questa immagine complessiva è l'immagine diciamo così che a certo punto è stata scartata da che cosa dall'idea che invece questo meccanismo andava smontato in tanti pezzi per cui trionfa in qualche modo una sorta di potremmo chiamarlo di relativismo pervasivo che però non è organico a sua volta perché è per sua natura non può essere organico e quindi lascia quell'uomo moderno in uno grande stato di incertezza fino al punto alta citazione che però è del testo di lui di pascal che dice il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi incute spavento cioè è quello che prima era armonia adesso una disarmonia che incute spavento che incute paura insicurezza e lui ci aiuta invece a ricostruire in fine conti questo universo che era un universo in qualche modo organico con tutte le sue con sue differenze e poi è molto interessante questa idea della continuità appunto tra mondo classico e mondo cristiano quindi medioevo in cui c'è come una una visione totalmente unitaria da questo punto di vista certo perché tra parentesi la cosa interessante che appunto intanto dire sincretismo medioevo pone molto accento sul sincretismo medievale che ingloba un po tutto noi dice c'è un momento questa immagine appunto cosmologica e nell'uomo medievale è una mano di vernice dice a certo certo punto sull'immagine aristotelica no di del cosmo no e appunto poi anche queste raffinatezze lui dice attenzione non ci interessa che il deceno sia di aristotele non si era di aristotele ma stiamo guardando a un sistema e va avanti poi appunto a fare vedere cosa questo significhi e tra parentesi la cosa interessante è proprio sul modello sempre sul modello e su quello che stavi dicendo adesso cioè la capacità di lui di entrare nella mentalità lui si aveva studiato filosofia e ricordiamoci come prima la sua prima laurea era filosofia la sua e lui entra proprio nella la mentalità e la costruzione di delle idee del tempo dicendo attenzione san tommaso quando troviamo appunto nella secondo capitolo quando lui si parla delle riserve nel del libro no dice quando san tommaso parla dell'astronomia no dice fornisce un resoconto di varie cose e ipotizzando l'esistenza no degli epicicli e degli eccentrici sostanzialmente salva di apparenza c'è salva sostanzialmente un si un certo sistema ma tommaso dice guardate che però per quello che ne sappiamo essi potrebbero salvare queste apparenze cioè i fenomeni proprio senso il fenomeni senso greco come dire si potrebbero salvare in virtù di presupposti differenti cioè sostanzialmente lui si dice attenzione guardate che con l'uomo medievale c'è in testa che noi prendiamo un prendiamo guardiamo la realtà proviamo a metterci no una spiegazione però potrebbe funzionare in maniera diversa e in maniera insomma veramente intelligente di us dice ecco perché copernico non sollevò neppure un granello di sabbia e invece galileo scatenò una tempesta mentre l'uno presentava una nuova ipotesi sulla natura del moto celeste un'ipotesi l'altro esisteva nel trattare la propria teoria come un dato di fatto è molto interessante questo perché ci fa capire in realtà come il modello che Lewis crea vuol dire sia flessibile sia un modello percepito oggi come allora come in maniera flessibile ma come il pensiero del periodo non sia così dogmatico come pensiamo è l'impostazione di chi dice certe cose paradossalmente che diventa dogmatica e che quindi crea un problema no crea un problema quello che appare chiaro anche oggi alla lettura alla prima lettura del testo di Lewis è però anche una questione proprio del metodo suo su quale vorrei che tu ci dicessi un'ultima cosa perché lui senz'altro parte con quello che Danilo chiama una cordiale ammirazione o detto parli una empatia cioè lui si mette di fronte agli autori col desiderio di farli parlare di far parlare loro di farvi di non di non di giudicarli ma di capirvi innanzitutto e questo mi pare anche un'idea di metodo molto interessante no sì assolutamente infatti dicevo una parte ci sono due cose per comprendere questo libro la seconda era quella di cui ho appena parlato cioè come viene usato il metodo la genesi di questo libro ci dice da dove nasce questa empatia dicevo queste lezioni lezioni accennavo prima sono lezioni che nascono dalla fine degli anni 20 fino alla pubblica delle 64 appena dopo la morte di Lewis nel 63 e in realtà era era già pronto il volume era già stato mandato per la stampa questo questo tipo appunto di empatia è l'incontro nasce l'incontro che Lewis ha letteralmente diuturnamente con gli autori lui faceva tantissime lezioni e siamo in una oxford e cambridge dove le lezioni si fanno in un'aula con un gruppo delle nelle stanze dei college che è con un gruppo molto limitato di studenti no si interloquisce molto anche se Lewis abbiamo gli appunti di Lewis che sono al momento la potlian library e Lewis si scriveva tutto e si scriveva tutto e aveva tutti i testi delle lezioni che ha fatto e poi prende come dire questo tutto quello che lui ha fatto e si mette a scrivere semplicemente questo questo volume che raccoglie quello che lui ha fatto per tempo ma dicevo la frequentazione di uturna c'è un bellissimo esempio che il povero Walter Hooper segretario di Lewis che è mancato nel 2020 diceva sempre appunto che un giorno entra dentro la stanza di Lewis e Lewis ha una tazza di tè alta così un'altra che si chiama una cornish mug no che è una roba prevede data una pinta e mezzo di tè e sta leggendo Bleak House di Dickens no e dice non troverai mai un libro abbastanza lungo per me una tazza di tè abbastanza grossa per soddisfarmi no cioè questo è un uomo che ogni giorno frequentava i suoi autori preferiti è un uomo che legge e parla degli autori preferiti un altro bellissimo esempio che troviamo questa volta in lettori letture in un esperimento di critica è che lui dice alla fine di una stava raccontando come alla fine di un esame esce fuori parla con un altro esaminatore dice oh però guarda quel pezzo lì che abbiamo che stavano leggendo i ragazzi a me piace proprio eccetera e l'altro guarda dice no basta dai e mi dice io ho solo proprio solo pena per queste persone che non hanno il gusto di quello che fanno no cioè per Lewis parlare di questi autori incontrarsi questi autori è parlare del gusto quindi quando lui ci racconta come il macrobio come i di Farsalia no di Lucano sono importantissimi come il Somnus Scipionis è qualcosa importante tra parentesi ci racconta con dei dettagli dicendo come dire quasi dicendo lo sapete già ma ve lo dico di nuovo elegantezza impressionante quando ci racconta di questi autori sono proprio gli autori che lui percepisce importanti al piacere di leggere di rileggere perché si vede davvero che sta a volte si citando dai dai libri ma fa molto come dire abbraccio e riconosce i tratti di questi amici in altri amici in altri autori no e infatti è bello vedere come Lewis guarda ad esempio a Spencer come guarda Milton come guarda ma anche appunto da autore medievale l'inizio no l'inizio del primo capitolo è uno come dire potrebbe essere un po' a dire oddio cosa sto per leggere quando dice inizia a parlarne del perrenage dell'homme di Guillaume de Tauville e di fatto non è proprio l'opera che immediatamente ci viene in mente che tutti abbiamo sulla punta delle dita però lui prende esempio in parte da questo autore e subito riconnette questa cosa ad Aristotele la questione dell'ettere all'idea di natura e cielo e ci rende familiare ciò che in realtà familiare potrebbe assolutamente non essere non non esserlo più il problema di Lewis appunto come dicevi giustamente che lui l'immagine scartata ci sta restituendo in fondo quello che noi abbiamo un po' dimenticato no quello che noi abbiamo dimenticato dimentichiamo a volte come dimentichiamo a volte e Lewis fa bellissimo sempre per il capitolo fa bellissimo paragone dice guarda noi viviamo in un mondo che è moderno dove c'è tanto Freud e poco Einstein ok cioè è un bel esempio un bel esempio lui dice sostanzialmente a volte noi stessi siamo coscienti come anche alcune persone del tempo non erano perfettamente coscienti di quali sono le cose che orientano le nostre le nostre letture però possiamo ricostruirlo e questo è un punto fondamentale per tutto il pensiero critico di Lewis cioè Lewis nella sempre in lettore e letture dice una cosa importante dice noi dobbiamo smetterla di cercare di leggere tutto come dire come volevano i suoi colleghi del tempo semplicemente dalla pagina pensando di poter comprendere perfettamente dalla pagina da quattro o cinque righe cosa voglia dire oggi questo testo a tutti noi soprattutto in questo periodo c'era una critica valutativa si dice questo vale è utile per oggi questo no Lewis invece dice guarda dobbiamo iniziare a fare altro a valutare un testo per quello che è parlando proprio discutendo con mandyville tellers dice non dobbiamo cadere nel biografismo dobbiamo guardare dove guarda l'autore non guardare a lui guardare dove lui sta guardando per cui diventare in inglese 700 quando leggiamo johnson un elisabethiano quando leggiamo shakespeare eccetera questo è un punto importante perché appunto il tipo di tipo di libro che abbiamo fra le mani questo momento ci aiuta a fare questo cioè Lewis sta aiutando le persone a evitare da una parte l'esagerato biografismo di una certa critica che arriva fino a lui dimentichiamoci la critica letteraria nasce in inghilterra in quel periodo lì è tutto sommato lui è il primo professore di di letteratura medievale rinascimentale diciamo ma letteralmente prima c'era solo filologia ok token appunto è un filologo edizione di testi la quella mentre l'ermeneutica è molto limitata o è molto soggettivistica Lewis cerca di dare oggettività all'ermeneutica cerca di dare una capacità appunto strumenti alle persone per leggere i testi no e al contempo di dire guardate la soluzione è andare incontro all'autore sul suo territorio che è la dimensione tipica dell'incontro umano no se io devo incontrare qualcuno appunto il sistema in questo questo momento digitale ci aiuta fino a un certo punto però vuol dire dovrei fare tre passi verso l'istrige a mano chiedergli e parlare in questo senso Lewis ci aiuta a fare quello che noi tendiamo a fare poco spesso cioè davvero muoverci nel territorio dell'altro autore e guardare al mondo con i suoi occhi io credo che tuttora oggi questo sia una qualcosa di estremamente estremamente importante perché quando noi guardiamo i capitoli di questo libro ci mettiamo ci mettiamo in grado di capire alcune cose tutto meraviglioso sulla terra i suoi abitanti no sull'anima razionale e sensibile il passato dell'uomo ma diventiamo capaci però in fondo davvero di comprendere quegli impliciti che un lettore contemporaneo ha presente e quindi di capire un po come dire il dialogo che il testo apre con tutta la il passato e avere una più originale attitudine più una più originale capacità di comprendere cosa questo significhi per noi perché senza comprendere un testo in se stesso comprendere cosa dire cosa può voler dire per noi diventerebbe vaniloquio e questo è effettivamente un problema che allora come ora la critica letteraria ogni tanto sembra saltare più pari grazie e grazie carlo per questa presentazione del libro ripeto al libro di di luis l'immagine scartata pubblicato da edizioni studium ma anche per queste osservazioni su diciamo così qual è il l'ammaestramento diciamo così più profondo appunto della della del metodo di di luis che ha a cuore questa questo incontro con l'altro questa capacità di mettersi a guardare come guarda lui eh che senz'altro è in fin dei conti la 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 sintesi vera dell'incontro e dell'amicizia grazie siamo in realtà stiamo registrando pochi giorni prima di natale quindi ci facciamo anche auguri di natale di un buon anno e ringrazio ancora carlo e per questa sua disponibilità auguri a tutti grazie mille a tutti voi arrivederci grazie mille a tutti